Il terturo è su vicino a Canton Zurigo e forse siamo in terturo, sono un po' in dubbio, secondo me. Dieci secondi! Tentiamo così, lasciamo così. Ma? Ma? Ma è troppo tardi? Eh sì. No? Adesso sì. In ultima posizione avete sistemato Lucerno, l'avete messo subito. Con quasi 60 chilometri è la risposta corretta, bravi. Friburgo è rimasto lì, ma come gli altri in realtà non avete più cambiato niente, solo l'unico cambio che avete fatto era quello di Lucerno. Friburgo in terza posizione con poco più di 40 chilometri è giusto. Poi? Sio! Il ragionamento che avete fatto avete detto è lì vicino alla Francia. Sulle alti? È a circa 30 chilometri dal confine. Winterthur è a circa la metà. 15. Lorenzo, Susanna, mi dispiace, è andata così. Ha vinto Valentina! Diciamo così, ha vinto Valentina! Grazie Lorenzo, è stato un piacere.